Sabato 25 alle ore 18.30 presso la Sala della Concordia presenteremo lo studio socio-economico. Sarà la prima parte del lavoro fatto da Demoscopica con il tavolo economico e perché vogliamo cercare di aiutare il commercio del centro storico, le attività di vicinato. Per farlo dobbiamo capire le capacità di spesa dei cittadini, come i cittadini si stanno muovendo per i loro acquisti, se hanno capacità di acquisto. Lo studio socio-economico ci dà una serie di misure che saranno utili anche per guardare al futuro, per fare delle attività, per cercare di mettere insieme delle misure reali che possono effettivamente aiutare a far crescere l'economia della nostra città. A seguito di questa prima parte dello studio verrà fatto proprio un questionario alle imprese, poi vorremmo mettere le mani su delle misure pratiche per andare incontro a quello che viene richiesto dallo studio. Per cui tutti invitati sabato 25 ore 18.30 ci sarà Raffaele Rio, presidente di Demoscopica, ci sarà Luigi Chiarello, giornalista, direttore di Italia Oggi, un giornale nazionale e quindi metteremo insieme le necessità della nostra città su quelle che anche sono le necessità a livello nazionale e quindi inquadreremo l'economia italiana del commercio. Grazie. Grazie.